La prefettura di Sondrio ha stampato un opuscolo sulla sicurezza stradale intitolato Stop la sicurezza e vita. Opuscolo che è stato diffuso in tutte le scuole della provincia di Sondrio ed è stato presentato questa mattina agli alunni di terza media delle scuole di Livigno. La prefettura di Sondrio ha pubblicato un opuscolo in cui parla di sicurezza e soprattutto dice la sicurezza e vita. Questo progetto è stato girato a tutte le scuole, anzi c'è stato un coinvolgimento delle scuole superiori per un concorso che verrà poi spostato un po' a settembre perché siamo arrivati nel periodo meno adatto per le scuole quindi a fine scuola. Però l'opuscolo è stato girato a tutte le scuole ma portato proprio per spiegare come abbiamo fatto oggi solo a Livigno perché Franzini ci teneva, ha chiesto, il comandante ha chiesto direttamente al prefetto se potevamo venire a spiegarlo con Christian che è stato di fatto l'anima di questo di questo opuscolo e quindi volentieri siamo venuti, il prefetto ha accettato di farci venire e ben volentieri. Tanti anni fa il progetto Stop Alcol Stop aveva anticipato l'attuale campagna sulla sicurezza stradale. Eravamo partiti da Livigno con i tendoni della Croce Rossa, avevamo fatto tutto quel primo percorso importante e ci siamo conosciuti lì tutti gli attori di questa spagna proprio di sicurezza stradale, si chiamava Stop Alcol Stop e abbiamo fatto tante altre cose e ci è rimasto proprio un po' nel cuore questo voler fare qualche cosa per cercare di fare un po' di prevenzione per questo fenomeno. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo messo anche altre cose oltre all'alcol. Si potrebbe ipotizzare di trasformare questa campagna educativa in una sorta di prassi in tutte le scuole e magari partendo dal basso? Io la passione ce l'ho sempre avuta per questa cosa quindi la rubo, rubo sempre il tempo. Chiaramente servono sempre anche fondi per fare queste cose e ci vuole sempre comunque l'anima, che qualcuno abbia la voglia di farlo. Qui mi pare, speriamo che rimanga il professore che avete intervistato prima Antognoli, che ho visto che è interessato, è vero che i ragazzi se ne vanno in terza media, ma potrebbe essere lui il tramite con la prefettura e l'altra rete che avevamo creato, dove abbiamo documentazione, per poter poi portare avanti sempre questa cosa l'anno prossimo con i ragazzi di terza. Io credo che alla fine è importante trovare, come avevamo fatto noi all'epoca, trovare una rete di relazioni e quindi forse dell'ordine, ma ci deve essere sempre qualcuno che rimane, come Franzini c'era allora, c'è adesso, quindi chi è interessato fortemente e qualcuno anche in motorizzazione c'era una collega che assolutamente ha sempre seguito. Noi siamo andati anche nel nostro tempo libero qualche volta alle feste, dove comunque il vino come cultura, ma dove si fa anche un po' di informazione su questa cosa. È la prima volta con ragazzi così giovani, però credo che la terza media oggi sia il giusto punto di partenza. Il giusto punto di partenza anche perché i ragazzi di terza media si appressano a guidare il ciclomotore. Questa giornata è stata pensata appunto nello specifico per i ragazzi delle terze, perché comunque sono in procinto di avere il patentino del ciclomotore, qui a Livigno sarà la patente dell'Ape e di conseguenza era bello comunque fare un punto su quelle che sono le regole da seguire e appunto gli obblighi da seguire sulla strada. I ragazzi li ho visti molto coinvolti e molto attenti a queste tematiche e mi è piaciuto soprattutto soffermarsi sul discorso appunto dell'alcol piuttosto che il discorso delle droghe, anche in funzione di quello che è il contesto, perché comunque la Valtellina la provincia di Sondrio è tristemente famosa per l'abuso di alcol e di conseguenza io credo che soprattutto nelle scuole sia opportuno fare lavori di questo tipo per sensibilizzare i ragazzi su quelli che sono i rischi che si corrono andando a festeggiare troppo. Coinvolto nel progetto anche Cristian, un ragazzo sulla sedia a rotelle in rappresentanza delle categorie più fragili sulla strada. Colgo l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto e il Comandante Franzini per aver coinvolto i ragazzi in questa importante iniziativa e oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di descrivere ai ragazzi questo puscolo intitolato la sicurezza e vita per appunto esortarli al rispetto delle regole che deve permeare ogni azione quotidiana di tutti noi e soprattutto nella circolazione stradale che è un'azione che si svolge nel quotidiano e deve proprio la legalità e la sinergia del cittadino con le forze dell'ordine deve essere quotidiana e costante. L'importante è evitare e rispettare poche semplici regole al fine di valorizzare la vita umana che è un dono ed è sempre bella, quindi va rispettata e soprattutto vanno rispettate anche le forze dell'ordine che ogni giorno ci ditevano e vanno viste come sempre un alleato per vivere una vita migliore. Ho esortato i ragazzi al rispetto delle regole che deve sempre appunto permeare ogni azione quotidiana e soprattutto nell'azione quotidiana della guida ho descritto ai ragazzi alcune semplici condotte di comportamento che devono portare avanti nella guida per evitare di costituire un pericolo per se stessi e per gli altri. Erano molto attenti, ho visto molta partecipazione e questo mi ha reso entusiasta. Il progetto sulla sicurezza stradale è partito dalla polizia locale. Già da diversi anni noi andiamo nelle scuole con questi progetti sull'educazione scolastica e anche sui problemi dell'alcolismo e dell'uso di sostanze stupefacenti. Oggi abbiamo dovuto creare questa giornata anche prendendo spunto dall'opuscolo che è realizzato dalla prefettura di Sondro per farlo conoscere ai ragazzi e per confrontarci anche con loro. Noi addirittura oggi abbiamo portato anche gli strumenti che abbiamo in dotazione, quindi il pre-test, l'etilometro e anche lo strumento per analizzare se una persona è sotto l'effetto della sostanza stupefacente, quindi il drug test. L'abbiamo fatto poi vedere materialmente anche ai ragazzi e abbiamo fatto anche simulato tra virgolette una prova. Poi successivamente abbiamo spiegato le conseguenze sicuramente da ripetere. E' stato molto coinvolgente anche le scuole che ci hanno creduto in questa giornata, i professori in primis e comunque anche i ragazzi oggi hanno apprezzato questa giornata, ci hanno chiesto proprio loro di trovarci ancora per altre iniziative di questo genere.